Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Gioca con Mike Allora, siamo rimasti qua nella casa di Kellogg, che ha rapito nostro figlio E dobbiamo cercare qualcosa nella sua cassetta, che ha lasciato qua Manette Ah, è tutto gratuito, ok prendiamo tutto, è tutto gratuito Dormire? No, no, ho dormito abbastanza Ah, però, Marte Prendiamo prima tutto Sì, forbice, ventilatore Ecco qua, pulsante, schiacciamo il pulsante Oddio, sono troppo pesante Troppo pesante Cavolo Non mi serve Guarda qui, le cose preferite di un mercenario Però Qua, quanta roba ragazzi Che è questo? Johnny Cash Eh, cane, senti Qua, cos'è? Birra Gwyneth Scatola Gwyneth Proiettili calibro 44 E Sigari San Francisco Sunlights Marca interessante Mmm, buono Tuttavia questo non ci porta da nessuna parte Prendiamo tutto, prendiamo tutto Ecco qua, Gran Turco Ehm, dov'è? Qua, suggerimenti Sarcasmo Qui non c'è niente Usa Dog Meat Ehm, ma come? Il grande coglione meccanico non sa che fare Detective Synthetic Idiota Se proprio vuoi prendermi in giro Almeno indovina la fattura e il modello Scherzi a parte Che ne dici di Dog Meat? Un cane del Commonwealth come lui Può seguire una pista per miglia Beh, ci proviamo No, dai, vieni con me Eh, salta? Allora, che cazzo vuoi ancora qua? Allora, ho un sacco di roba che non mi serve Mi sa Armi, bottiglia Cos'è qua? Fucilo automatico Allora, qua ho un sacco di cose che non mi servono Completo da strada Allora, ecco qua Togliamo tutto Perché voglio portare sta roba qua? Prendiamo, prendiamo, prendiamo Acqua Munizioni Bottiglia Questo cos'è? Ah, può servire, sì Poi, munizioni Munizioni Acqua Acqua Da mangiare Io, a me mi piace mangiare ragazzi Devo prendere ste robe qua Di nuovo trasporto troppo Michia, calmatevi però E che cavolo Acqua purificata C'è sicuro un sacco di monnezza Che non mi serve Però Togliamo Questo sicuro non serve Fucilo Ok, serve Canna da baseball Mazza da baseball Non mi serve Questo Non mi serve Ok 245 Dobbiamo avventare un po' di cazzata allora Ah, devo uscire? Ok Usciamo Perfetto Ecco qua Dogmit Dogmit Che vuoi? Cerca la pista, bello Ho letto Cerca la pistola Eh, trova Trova Kellog Trova Kellog Portami da quel figlio di puttana Oh Oh Ok Si deve censurare Sta parola Allora Sì, trova un indizio Completata Perfetto Seguiamo Dogmit Vediamo dove ci porta Eh, però Cammina Cavolo Sei un cane, oh Corri Eh, aspetta Prima che Prima che Devo andare Ecco qua Andiamo a ventere Oh no In compagnia di Valentine Eh Buon per te Sì, sì Sì, sì Devo Eh, trasferisci Eh Tutti i materiali Ecco qua Ah, 149 Perfetto Abbiamo lasciato tutta l'immondizia là Poi ce la possiamo riprendere per costruire la nostra base E adesso dobbiamo lasciare Diamond City E seguiamo Dogmit Cancello Chiudi Dai Dogmit Corri Corri Salvati la vita Dogmit Dai Minca sei lento però Mamma mia Allora Dove ci porti Dove ci porti Dove ci porti Dai, dai Vai Vai Dogmit Dove ci porti Trova il calzino Trova il calzino Chi è? Ha bisogno d'aiuto Chi? Lasciami stare Non c'è niente qua Alla ricerca di Kellogg Cerchi indizi che portino da Kellogg E che ne so Cane, dove sei? Ah, qua Ah, che abbiamo qua di bello Ah, ecco qua San Francisco Sunlight San Francisco Sunlight Dogmit ha ritrovato la pista Che per un perro sbatteva la fronte Ok, bello Troviamolo Troviamolo Trovalo tu Dai Vai 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 Eh, come ascolta Eh, il cagnolino Come ascolta il cagnolino E mo dove ci porti? Allora, per tutti quelli che forse non hanno visto Tutti gli altri episodi di Fallout 4 Si tratta che Nostro figlio Sean è stato rapito Da questo tipo Kellogg E lo dobbiamo trovare Solo che siamo stati quasi 210 anni Concelati nel vault Oh, 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 oh Miglia, mentre che parlo Eh, se lo prenderei però Non sarebbe male l'idea Eh, sono andati Sotto terra Eh, eh, eh Madonna Raga Oddio Questo lo prendo Lo prendo Oh, oh, oh Ratto Poveri Era già morto Crepa Bravo Ce n'è ancora? Wow, ragazzi L'oggetto è troppo Guardate Questo è troppo pesante Questo no Ehi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si può fare ... Ecco qua Dov'è Docmeat? Docmeat? Do... Dov'è? No, l'ho perso L'ho per... Ah, qua Ok, ecco qua, Docmeat Perché non lo prende? Ah, adesso Che bella fa... Ci posso sparare? No Docmeat, stai fermo Dai, dai, ho un nuovo amico per te Docmeat, vieni qua Fermati Guardate come balla Se lo butto giù? Cosa succede? Adesso ci facciamo fare Un bel veolo Ok Docmeat, dove sei? Docmeat? Ah, ecco qua, ecco qua Ehi, 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 ehi Calmati, calmati Cerca indizi che portino da Kellogg Ok, ehi Testa distrutta, sì Può essere lui, può essere Kellogg Fugile a doppia canna No, 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 ce l'ho già Ehi, sì Metallo, metallo è sempre buono Poi che abbiamo più Uh, un altro cadavere Esci, spo... Come faccio a trovare... Sembra che Kellogg si sia fermato anche Spostati Ok Eh, ah Ecco qua Bende sporche di sangue Dogmeat ha trovato qualcosa? Dogmeat può fiutarle Sì, sì, può, può Però aspetta Ok, bello Troviamolo Ok, bello Trovalo Munizioni Steampack Ok Oh, 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 oh Ragazzi, ragazzi Proviamoci, proviamoci Yeah Oddio Ci ho fatto scoppiare Le facce Eh Qui Mi ha salvato Valentine Grazie 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 C'è gente là? Eh, ma Non lo so Mi servirebbe un Un fucile da cecchino Per distruggerli Quanto colpio? 12, 132 Eh, ce la potrei fare Ce la potrei fare Dai, vai, vai Dogmeat È lento sto cane Non mi piace proprio La prossima volta Mi porto un Chihuahua Oddio, no Un Brahmin Morto Oh, 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 oh Questo cosa Oddio Oh, oh, oh Ok, ok Aspetta Qua devo prendere Roba più pesante Eh Mitragliatrice No Doppia canna Fucile da caccia Poi Vediamo Oh, cavolo ragazzi Non ci fa niente Oh, oh, oddio Si sta avvicinando Si sta Corri, 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 corri Corri, corri, corri Dov'è? Dov'è? Lo faccio cadere Di Dov'è? Ok Uno Oh, ragazzi Mi segue Mi segue Dov'è? Eh Due Ok Ce la possiamo fare Come si chiama? Oh, cazzo Questi che sono? Oh, ragazzi Che sono quelle cose? Sinceramente Mi fanno più paura Quegli insetti Che l'orso I 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 Ecco qua Eh Testa Qua Uno Dai Un bel colpo Ok Non ci ho fatto niente Ecco qua Minchia ragazzi E quelli insetti giganti? Dove sono finiti? Carne di Yao Guai Pelle di Yao Guai No 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 Meglio di no Questo E questo chi è? Ma chi è? Ah No Lascialo No Fuori dai piedi Scusa Pensavo Ehi la Fuori dai piedi Fu Ah non crepa? Ok Ok ci ho provato Allora abbiamo ucciso il Yao Guai Era pure ferito C'è scritto Yao Guai Ferito Ancora col cane E mo quello non viene più Allora Un colpo solo Ok lasciamo stare Un colpo solo Qua No Che prendiamo Media Sì questo mi piace Mi piace Mi piace Mi piace E mo il cane Dove? Ah se mo quella non si toglie dalle palle Non viene il cane Oh Eh Ragazzi Dai Dogmit Vieni prima che si rialza Dai L'avete vista E sa Wow Che è Spider-Man Vai vai Dogmit Vai Cavalca Furia Cavallo del West Ah le scale Tipo tranquillo Tu prendi solo le scale Prendi solo le scale Bene Dogmit Ha trovato qualcosa Sai cosa fare Cerchiamo le indication Di Kellogg's Madonna Mica mi ha fatto cacare Sto cosa Abbiamo perso tanto sangue? No no Ce la possiamo fare Qua No si siede? Perché ti siedi? Ecco qua Il Raguin Una delle sue De polizia Una delle sue Siccome lo conosce Di persona Lo conosce Ok bello Troviamolo Vai Dogmit Uff Ti seguo Vai vai Oh Ok un ponte Qua ci possono essere le No Le trappole Ci stanno Vabbè vai avanti Dai se succede qualcosa Almeno Un cane in meno Dai Però E che Quei che so cavalli Ah no cani Ok Vai Dogmit Vai Carne di cane Eh Ghoul Mannaggia Ecco qua Questo l'hanno fregato di Tokyo Ghoul Un altro Ok Vagabondo No Mica non credo Vai Ci ho spaccato il braccio E dove vuole andare? E questo? Vai vai Dogmit Attaccalo Dogmit Prendilo Bravo Tienilo 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 Perfetto Beh Dogmit Che Mamma mia Che team Che siamo Che c'è più? Ghoul Ferale Oh Oh Eh ma io prendo più Cane Che Bravo Vabbè Prendilo Prendilo C'è un altro C'è un altro C'è un altro Crepa Ecco qua Perfetto Siamo Siamo una squadra Fortissimi Beh devo dire che in questo lepesto Più cantanto Che Parlando Vabbè O canto cazzate O sparo cazzate Quindi è la stessa cosa Perfetto Siamo arrivati Dove Che cos'è? Tappo Carne in scatola Frutto mutata Steam pack Ok Orsacchiotto Sì mi serve Questo cos'è? Che cosa abbiamo qui? Errore Sistema danneggiato Non sento le gambe Oh poverino E mo? Posso picchiarlo? Ah cos'è successo? Ehm Cos'è successo? Cos'è successo qui? Errore Operatore deceduto Livello di minaccia Omega Ci ha ucciso Chi? Siamo sulla pista giusta Speriamo non manchi Ok Dogme Dove dobbiamo andare? Vai Ah il cigarro Ecco qua Perfetto Perfetto Me la sento ragazzi Stiamo arrivando Sempre più vicini a Kellogg Non so cosa ci aspetta Mica Sembrano Dei gremlin Oh Oh cavolo No Ecco Vai Dai A Dogme Il fuoco Non ci fa niente No Dogme Non ero io Mi dispiace Stimpec Ci posso dare Stimpec? No? Ok Prendiamo Carne Di cane Non mi serve Minchia Come si alza subito Però Simulazione Fa finta di crepare E poi Mi preoccupo Vai Vai Dogme Vai Eh 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 Ma sei un cane o no? Che cazzo sei? Beh Dove ci porti? Ok Sali Vai Eh ma Che bel cielo Adesso l'ho visto Le stelle Le nuvole Potrei parlare anche un po' più emozionale Allora Le stelle Le nuvole La luna Siamo qua E tutto E' morto Non sono il poeta Non sono il poeta Allora Che ne dici bello? Del nostro uomo Dai dai vai Sono meglio a sparare Che a fare il poeta Ci potrei riprovare Allora Eh Le stelle La luna Le nuvole Siamo qua A Fallout 4 In questo mondo Apocaliptico No no Lasciamo stare Lasciamo stare Lasciamo le poesie Continuiamo a cercare Kellogg Che meglio Vediamo quanto dura Ancora qua Sto cane mi fa durare Il video Quasi due ore Che cavolo Trovato qualcosa? Controlla Dogmit Che c'hai? Eh? Pulci? Hai le pulci? E' questo il posto E' qui dentro Bello E' qui dentro Bello Ha chiudato il nostro uomo Adesso ci pensiamo noi Ah Concedi una pausa Al nostro amico A quattro zampe Ok pausa 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 Adesso Ehi bello Ciao bello Che carino Non importa Non preoccuparti Non preoccuparti Dogmit Sto solo salutando No poverino Voleva da mangiare Ok Fa niente Come mi muovo? Ah qua Ehi Vedrò cosa posso fare Emo dove devo andare Che devo fare ragazzi Non lo so Va tutto bene Bello Ah ecco qua Forza Bello Dobbiamo andare Eh Sì Ehi Valentine No voglio Valentine E' ora di partire? Noi cane Andiamo Molto bene Che vuoi cane Tu non sai parlare Scusa? Va tutto bene Bello Ora ci penso io Ah parlano anche insieme Ok Sanctuary Hills Vai Sfogati cane Sfogati Ma adesso Che missione ho? Non lo so Dati Qua Trovi modo di entrare Ah Fort Hagen Devo entrare qua dentro Ho capito Allora ragazzi Quindi dobbiamo entrare qua Fort Hagen Di là non si entra Il cane è ancora là Impalato come uno zombie E tu Eh ma hai l'occhi Eh aspetta Chico tu stai male Vabbè Ma stai male Di brutto Eh sì Eh sì Vedendoti così adesso Stai male Allora ragazzi E' finito qua L'episodio Numero Undici Di Fallout 4 Come sempre Lasciatemi un bel like Iscrivetevi ragazzi Ci vediamo Nell'episodio Numero Dodici Ciao a tutti Il vostro Gioca con Mike Ciao a tutti